Musica Siracusa ha il suo centro hub vaccinale nell'Urban Center che è stato inaugurato domenica 7. 24 postazioni vaccinali che consentiranno la somministrazione di 2000 vaccini al giorno. Inaugurato alla presenza del Presidente della Regione nell'Omusumeci, dell'Assessore alla Salute e Razza, il centro vaccinale è il terzo in Sicilia dopo quelli di Palermo e Catania. La struttura, il cui allestimento è stato curato dalla protezione civile nell'ambito dell'emergenza coronavirus, si aggiunge ai numerosi altri centri vaccinali istituiti dall'ASPE di Siracusa su tutto il territorio provinciale. Nel piazzale Molo Sant'Antonio, peraltro scenografico, è stato posto lo schieramento di uomini e mezzo della protezione civile di Siracusa, al quale il governatore, a conclusione della cerimonia di inaugurazione, ha rivolto il proprio saluto e ringraziamenti. Un risultato che è stato ribadito e frutto del lavoro sinergico. Assieme a questa struttura sono attivi numerosi altri centri vaccinali, protette per gli over 80 che stiamo vaccinando, sottolinea il direttore generale dell'ASPE, Lucio Ficarra. Dopo la cerimonia il presidente Musumeci si è ricato in visita al centro vaccinale di Sortino. L'Ermo Catania Siracusa e così procederemo con le altre città capoluogo. Abbiamo allestito il punto vaccini in quattro giorni con la nostra protezione civile, con la nostra ASPE in collaborazione con il comune. Bisogna marciare quando c'è un'epidemia in modo particolare. La gente ha preso coscienza della macchina organizzativa della regione, che non è impeccabile, ma che certamente non deve assolutamente sfigurare rispetto ad altre regioni italiane. Adesso aspettiamo i vaccini. Qui abbiamo 24 postazioni pronte ad accogliere decine di migliaia di persone del Seracusano che vorranno somministrato il prezioso liquido. Guardiamo al senso di responsabilità di tutti, a cominciare dagli operatori dei servizi pubblici, gli amministratori, i rappresentanti delle cariche istituzionali, che nella applicazione del protocollo dei vaccini debbono essere testimonianza, debbono essere di esempio. Evitiamo le scorciatoie, evitiamo di superare la fila. Occorre testimoniare coerenza e responsabilità perché nessuno si senta discriminato. Ancora stabile, pur se si registra un lieve aumento dei contagi in Sicilia da coronavirus. Il bollettino di domenica 7 marzo parla ancora di 576 casi positivi. E se arrestano in negativo il recovery covid, purtroppo aumentano le terapie intensive di due unità. 12 detenuti ed è boom di guariti, 3.571. Mentre, per quanto riguarda la provincia di Siracusa, salgono a 43 i casi rispetto alle 24 ore precedenti, proprio per il dato di domenica. Intanto, le dosi di vaccino complessivamente inoculate all'interno della regione sono 430.256. La campagna di vaccinazione continua, così come vengono appunto costruite, sistemate e organizzate dalle ASP i centri di vaccinazione. Il sindaco di Avola, Luca Cannata, ringrazia tutti i volontari dell'Avo, che stanno lavorando per il bene della comunità al centro vaccinale presso la Lilt, così come è stato appunto attivato. Contro le polemiche create, dice il sindaco, rispondo con i fatti, ho messo in moto nei giorni scorsi la macchina organizzativa con grande sinergia insieme all'ASP e con il prezioso impegno dei medici, operatori sanitari e volontari della Lilt, dell'Avo, della Croce Rossa, per dare un altro punto vaccinale oltre quello già organizzato all'ospedale di Maria. Anche Solarino ha avuto la prima giornata di vaccinazione presso l'ufficio igiene di Solarino. L'ASP, con la nostra collaborazione, dice il sindaco Sevis Corpo, ha vaccinato 90 persone. Ottima organizzazione, si ringrazia il personale sanitario e volontari del centro ascolto per l'assistenza sanitaria. Anche a Canicattini sono stati somministrati oltre un centinaio di vaccini anti-covid. La postazione è stata istituita nel comune e nell'area concessa all'Avis. All'interno del territorio però ci sono alcuni comuni che stanno registrando un aumento in più dei contagi. E i carabinieri hanno sanzionato a Buscemi il conducente di un bus che trasportava studenti che non indossavano la mascherina. Nella zona montana negli ultimi giorni si è registrato un preoccupante aumento di casi di positivi al virus. I carabinieri hanno intensificato i controlli. E' stato arrestato un trafficante di esseri umani. Nel pomeriggio di giovedì 4 marzo a Crotone, su delega della procura antimafia di Catania, agente della squadra mobile di Siracusa, coadiuvati dai colleghi dell'omologa di Crotone, hanno eseguito un fermo indiziato di delitto a carico di Abdallah Ahmed Sabir, sudanese di 26 anni, ritenuto responsabile di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento delle immigrazioni clandestine e alla tratta di esseri umani. Lo straniero era giunto in Italia lo scorso febbraio dopo essere stato soccorso in mare insieme a numerosi altri migranti a bordo di una nave appartenente ad una ONG attraccata poi al porto commerciale di Augusta. Attività info-investigativo, infatti, posta in essere dopo lo sbarco, suffragata da molte testimonianze da parte di cittadini extracomunitari, hanno raccontato le gravi violenze subite in Libia nei campi dove vengono tenuti i migranti in attesa di partire per l'Europa e ha consentito di far luce in ordine dal ruolo ricoperto dell'uomo arrestato. Lo straniero era alloggiato all'isola di Capo Rizzuto. Il GIP di Crotone ha provveduto a convalidare il decreto di fermo indiziato e ottenere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si inasprisce la questione dei lavoratori stagionali extracomunitari che stanno lavorando nei pressi di Cassibile. Sabato 6 marzo il Comitato dei Cittadini di Cassibile si è dato appuntamento in Contrada Palazzo, ingresso per Costruendo Villaggio per Extracomunitari e hanno firmato la petizione contro il luogo dove si sta costruendo il villaggio. Gli stessi sindacati intervengono anche con prese di posizioni dopo lo sgombero coatto di un gruppo di migranti che aveva trovato alloggi in alcuni eruderi della frazione di Siracusa. La CGL con Roberto Alosi ha sottolineato come gli stessi sono stati allocati in un agriturismo messo a disposizione gratuitamente ma ha chiesto al prefetto che chieda l'intervento della protezione civile della Croce Rossa e il sindaco di far la sua parte. Alosi è avanzato richiesta in prefettura per la convocazione urgente di un tavolo che insieme a tutti i soggetti a vario titolo interessatico involca i sindaci dei comuni dove operano prevalentemente i migranti al fine di porre le basi per una dignitosa accoglienza. Anche l'UST CISL Ragusa Siracusa con Vera Carasi interviene se ascolti la comunità di Cassibile, dice, e si avvia un capillare controllo sui proprietari di quei campi dove vengono impegnati gli stranieri. Bisogna assolutamente evitare strumentalizzazioni e prese di posizioni politiche e fine a se stessi sull'argomento. Il costruendo villaggio le porte di Cassibile dovrà garantire una vita dignitosa agli immigrati assicurando la loro sicurezza e quella dei residenti. Nessuno pensi di trasformarlo in un ghetto. Sulla questione interviene anche il coordinamento provinciale di Fratelli di Italia per Siracusa. Con il portavoce Giuseppe Napoli chiarisce la posizione del partito. Riguardo lo sgombero e la demolizione delle strutture destinate all'accoglienza è evidente che tali provvedimenti scaturiscono dai violazioni dell'ordine normativo. Non è vero che il circolo in plantini di Cassibile non voglia la presenza degli immigrati sul territorio della cittadinanza. Al contrario, si affianca alla protesta del Comitato che ha manifestato preoccupandosi sulle condizioni disagiate nei quali sono costretti a vivere le centinaia di immigrati e che a causa della scellerata politica favorisce l'immigrazione clandestina li accoglie per abbandonarli a loro stessi privandoli della dignità umana favorendo il loro degrado e di tutto il territorio in cui vivono. Si apre la polemica anche con posizioni emerse da padre Carlo D'Antoni. Il problema però continua ad essere, dice Carlo D'Antoni, affrontato come se fosse un'emergenza e non lo è più e quelle persone vengono da noi per lavorare e pur di mandare dei soldi alle famiglie accettano qualunque condizione senza fiatare, senza tutele sindacali, in balia di padroni e caporali. Sulla questione dei lavoratori stagionali di Cassibile interviene il primo cittadino Francesco Italia. L'amministrazione comunale, che per prima dopo decenni di assoluta inerzia, sottolinea, sta tentando in tutti i modi di risolvere la questione dei lavoratori stagionali nel perimetro della legalità e dei rapporti istituzionali, viene più volte chiamata in causa. Quello che abbiamo scelto di fare, dice Francesco, è di lavorare nell'insediamento per la realizzazione di una struttura stagionale accassibile attraverso i moduli ricevuti in comodato d'uso gratuito della Prefettura, che sarà attiva dal mese di aprile. Abbiamo inoltre presentato, dice, un progetto di ampliamento della stessa attraverso la partecipazione a un nuovo bando. Abbiamo acquisito risorse e partecipiamo come partner di progetti contro il caporalato per la formazione di operatori, per la mediazione culturale, per le campagne di comunicazione e screening sanitari, il tutto per svariate centinaia di migliaia di euro. L'amministrazione ha attivato inoltre, ricorda il sindaco, contatti con la Croce Rosse, l'ASP, Emergency e tutte quelle associazioni e realtà preziose che da anni svolgono un straordinario lavoro per garantire condizioni dignitose a questi lavoratori, peraltro in piena sintonia con la Prefettura. Si tratta di lavoratori specifica il sindaco di Siracusa con regolari permessi di soggiorno che hanno pianificato il loro arrivo per tempo utilizzando trasporti privati o pubblici e sono qui in quanto chiamati da aziende del territorio. Non parliamo né di naufrighi, né di rifugiati senza fissa dimora, né di minori, né di soggetti inconsapevoli in stato di necessità. Le aziende agricole hanno l'obbligo di verificare che i lavoratori che assumono siano alloggiati in standard abitativi dignitosi. Stiamo cercando di impedire che questi esseri umani vivano in situazioni indecorose o occupino abusivamente immobili privati. A seguito delle segnalazioni sui social di presunte criticità nel servizio di Guardia Medica di Floridia riguardanti in particolare la mancata risposta alle chiamate telefoniche di utenti, il direttore generale dell'ASPE di Siracusa, Ficarra, ha dato mandato al Dipartimento ADIS di effettuare i dovuti controlli. A tal proposito, il personale della UOS ASB di Floridia ha trasmesso dettagliata relazione rappresentante in sintesi di aver effettuato controlli in random attraverso telefonate effettuati in diversi orari della Guardia Medica, che avrebbe provato la regolarità delle risposte telefoniche dei medici in tutte le fasce orarie sperimentate. Lo stesso responsabile ha evidenziato il malfunzionamento dell'apparecchio telefonico, che potrebbe essere stato alla base delle criticità segnalate e ha comunque già provveduto alla sua sostituzione. Tutto il personale della Guardia Medica è stato invitato al massimo rispetto dei propri compiti.